Ciao ragazzi, benvenuti su Gartip Drums e nel video di oggi voglio trattare un argomento che non è mai tanto trattato tra i batteristi, voglio parlare di tappeti. Sono andato su strumentimusicali.net, ho comprato il tappeto più economico, il tappeto più costoso, due tappeti di fascia media, nel senso uno più verso l'economico, uno più verso il costoso comunque e voglio metterli a confronto, voglio capire quali sono i tappeti migliori per i live, se esistono dei tappeti migliori per i live, se esistono dei tappeti migliori da tenere in studio, voglio capire un po' di cose e voglio dirvi un po' quello che sento provando questi tappeti. Molti di voi probabilmente mi potrebbero dire, sì ma in realtà tappeti per batteria vanno bene tutti, io ho quello che aveva mio figlio quando aveva due anni che ci giocava, non lo so, esiste qualsiasi tipo, ho visto anche gente che arrivava con la batteria, metteva il tappeto, quello con tutte disegnate le macchinine, le stradine, va bene più o meno perché sono tappeti non fatti per questo, questi invece sono tappeti appositi quindi hanno un po' di cosette che sono utili, devo dire che sono utili, e però appunto voglio mettere un po' di chiarezza in questa cosa, quindi mando la sigla, prendo i tappeti e riproviamo. Allora, 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 vorrei partire dal tappeto più costoso che ho comprato, che è questo Roland, il tappeto V-Drums, che quindi teoricamente è dato come tappeto, credo, da batteria elettronica, ma poi in realtà va bene per qualsiasi batteria. Quindi apriamo il tappeto e vediamo. Taglierino? Ecco, come al solito. Dov'è? Ah, non dovevo tagliare, ma dove? Ah no, si apre di qui, effettivamente ha senso. Allora, questo è il tappeto di Roland, non saprei cosa dirvi se non di aprirlo, andare a montarlo e basta. Eccoci qua, primo tappeto montato. Allora, devo dire subito che questo Roland qui è un po' più piccolino rispetto a quello che ho di solito, quindi se abbiamo una batteria normale come questa, siamo tranquilli, ci sta, poi ovviamente le aste, magari i piedini delle aste sbordano un filo, ma non è un gran problema. Mi è piaciuto un sacco il materiale perché sopra è un po' di questo, di questo, sembra un po' moquette, diciamo tra virgolette, e sotto invece ha un antiscivolo, una gomma tipo antiscivolo, ed ho provato anche a tirare la batteria, è impossibile riuscire a spostare la batteria. Se la batteria è montata sopra, col tappeto non riusciamo a tirarla, è proprio impossibile. E questo, questa gommina sotto, mi piace che lo rende un pochettino morbidino, quindi anche da starci sopra non è per niente male. Non si muoverà sicuramente se proviamo a suonare, perché se ho provato a muoverlo con la batteria sopra non si è mosso per niente, quindi se suoniamo siamo tranquilli. Vi dico già che quello che suonerò oggi, lo sentite diciamo tra virgolette senza microfoni, nel senso ho tolto tutti i microfoni, dato che devo montare e smontare la batteria tante volte, ho lasciato solamente i due panoramici che ho in fondo alla stanza, i due, no, le due room che ho in fondo alla stanza, i due panoramici qui sopra e il microfono della cassa. La cassa non si muove, tanto il problema alla fine è principalmente la cassa, quando prendiamo un tappeto perché rischia di camminare avanti. Qui non c'è problema, non si muove, piantata lì non ho fatto un millimetro avanti, quindi direi perfetto. Voglio in realtà dare delle votazioni in base alle caratteristiche a questi tappeti. Me le sono scritte perché non me lo ricordo, aspetto, robustezza, barre materiale, peso, misure, portabilità, portabilità nel senso di quanto è semplice da trasportare. Allora, aspetto devo dire che a me è piaciuto molto perché appunto questo colore qua, tra l'altro secondo me si vedono anche meno le schegge delle bacchette, dato che non è tutto nero come ad esempio il mio, con questo secondo me quando cadono un po' di schegge si vede meno, gli darei come voto un 7,5 perché mi piace, ovviamente non è una cosa da vedere e dire mamma mia il tappeto più bello che abbia mai visto, ma comunque non è niente male. Robustezza gli darei tranquillamente un 9, perché secondo me questo proprio lo pianti lì e non si muove mai nella vita, lo vedo più da studio che da live. Peso abbastanza ma non eccessivo, quindi gli do tranquillamente un 7. Misure, per quanto mi riguarda è un filo piccolo perché di solito magari se metto un timpano in più o se metto un rullante di qua esce dal tappeto, dipende dalla batteria che avete voi, quindi li dipende. Misure quindi gli do un 6,5 e portabilità gli do anche qua 6,5 perché secondo me da portare in giro non è così comodo. Detto questo però, questo tappeto veramente un ottimo tappeto, bello, molto 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 bello. Passiamo di nuovo qui e andiamo al secondo tappeto, secondo tappeto che non è imbustato da solo ma è, cioè imbustato da solo ma è in questo pacco qua, contenente due tappeti diversi. Allora vediamo, prendiamo a caso, oggi sto andando completamente a caso eh. Questo qui penso sia il tappeto più economico a sentire così, ho partito da quello Roland che era il più costoso di tutti, adesso forse andiamo al più economico di tutti. Non c'è scritto nulla ma questo qua dovrebbe essere il PIS. Allora vediamo, vediamo, montiamolo e vediamo come si comporta. Secondo tappeto montato, allora qui abbiamo ovviamente davanti un tappeto completamente diverso da quello di prima ma abbiamo anche un costo completamente diverso da quello di prima, questo qui verrà più o meno un quarto di quello di prima. Quindi qui abbiamo un tappeto della PIS, vi ricordo, più piccolo ancora rispetto al Roland di prima e rispetto al mio, poi non bisogna fare troppo paragone con il mio tappeto solito perché quello è un tappeto fin troppo grande, diciamo, quindi non ci farei troppo troppo caso. Ma allora, questo qua è quello che definirei un tappeto da battaglia, nel senso è un tappeto che costa poco, è un tappeto che pesa poco e ovviamente ha i suoi pro, questi, ha anche il contro che non è un tappeto troppo robusto, non è un tappeto che sta perfettamente liscio, magari nel momento in cui lo si lascia un po' per terra così non arrotolato si liscia bene ma in realtà appunto il materiale come potete vedere non è il materiale di prima, diciamo, in cui avevamo il tappeto perfetto, liscio perfettamente, che facevano così e non si muoveva di un millimetro. Ovviamente questo è un tappeto che io consiglio principalmente a chi vuole un tappeto da battaglia, quindi un tappeto da portare in giro tranquillamente, un tappeto di cui ti preoccupi tra virgolette anche poco, nel senso che boh, pigli, pieghi, butti in macchina e vai, tiene poco posto, è piccolino, ma comunque la cosa importante dei tappeti che vi dico è il fatto che almeno una gamba del seggiolino stia sul tappeto e la cassa completa stia sul tappeto perché in questo modo col vostro peso e con questa gamba nel momento in cui suonate la cassa fate in modo che la cassa non spinga avanti il tappeto. Devo dire che però appunto a parte la questione un po' della grandezza che come vedete ad esempio qui il charleston è quasi fuori, non è fuori a parte la gambetta ma il pedale del charleston è quasi fuori, però per il resto appunto come vi ho detto da battaglia ci sta. Quindi passiamo alle votazioni, non mi ricordo quali siano le cose che ho insegnato su questo foglietto qua. Aspetto, allora aspetto e raga aspetto 5 nel senso che boh non è chissà che tappeto bello da vedere, però funzionale, non è bello ma è funzionale diciamo così. Robustezza, materiale, anche qua gli darei un 5 e queste sono le due parti peggiori, diciamo i contro, mentre nel momento in cui passiamo al peso ad esempio, peso ragazzi questo gli do un 9 perché pesa pochissimo. Misure, no effettivamente anche misure un po' piccolino quindi darei un 6 giusto perché la batteria alla fine ci sta e portabilità raga è 9, non gli do il massimo perché so un tappeto che c'è dopo e io lo darò a quel tappeto lì il massimo, ma comunque portabilità 9. Come vi ho detto questo è un tappeto che non dobbiamo prendere per uno studio, quindi lo penserei più per i live, da portare in giro, da utilizzare tanto e quindi da far andare, da far andare, portare, spostare, smontare, montare eccetera. Secondo me questo è perfetto, ci sta, ovviamente se non avete la batteria di Mike Mangini, però perché è gigante ce ne vorrebbero 7 di questi tappeti, però per il resto ci può stare. Adesso passiamo al gigante, mi è arrivato questo che guardate quanto è lungo, tantissimo. Allora, ecco questo come si apre? Sempre di qua immagino, mi sono tagliato, ma non col taglierino adesso, prima credo, vabbè. Ma come si apre? l'apertura pacco, questo diamo un voto basso, eh? Ah no, 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 no. E questo si apriva così? Eh, abbiate pazienza. Questo sono molto curioso di vederlo, ammetto di averlo preso da strumentimusicali.net solo per l'estetica. Fine. Allora, prima cosa, questo ha il suo apposito contenitore, come si chiama? Il suo... vabbè avete capito questo. L'accetto, che comunque non è male. Eh... è molto bello, raga, è molto bello. Vado, vado a metterlo. Ciao. Eh, raga, questo è molto bello. Questo tappeto è veramente, veramente molto bello. Vedrete probabilmente che da questa parte qua, lo vedete dalla camera dall'alto, si piega un po' ancora, perché è nuovo. Eh, quindi, essendo nuovo, io ho avuto un tappeto molto simile a questo, era un po' più piccolo e non era tutto colorato, ma era nero di Minol e all'inizio lo fa, quindi dovete tenerlo un attimino e poi, eh, dopo un po' si, si appiattisce ed è tutto a posto. Devo dire che, essendo un tappeto così grande, non è, eh, spesso, eh, è resistente come il Roland, ad esempio, eh, che abbiamo visto prima, anche perché sennò peserebbe una fucilata. È già quello che pesa più di tutti, ma se avesse ancora quello spessore lì sarebbe veramente troppo. Mi piace veramente molto, cioè dall'alto fa una figura niente male, eh, ovviamente come aspetto è quello più bello di tutti, eh, di oggi e, almeno fino adesso, poi vedremo l'ultimo. Sotto ha un, eh, un antiscivolo, quindi anche questo, se lo tirate, viene, dovete veramente tirare forte, ma non vi consiglio di farlo, non vi consiglio di spostare la batteria tirando il tappeto, perché altrimenti vi verranno tutte le ondine sul, sul tappeto, perché non essendo così tanto spesso, vi vengono le ondine. La cosa bella di questo tappeto è che ci sta tutta la batteria sopra, tutto, tutto compreso, qualsiasi asta, qualsiasi piedino, tutto sopra. E poi, raga, oh, questo colore è bellissimo. Ovviamente non si muove niente, perché siamo sopra il tappeto, c'è tutta la batteria perfettamente sopra, non si muove niente. Peccato solo per queste ondine qua, ma col tempo poi si tolgono. Allora, voti. Non mi ricordo più. Aspetto. Vabbè, raga, aspetto dieci. Che vi devo dire? Aspetto è bellissimo. Poi, robustezza materiale. Allora, robustezza materiale gli darei sette, perché comunque il materiale non è male, l'anticcivolo sotto, però non è chissà che roba pazzesca. Non mi ricordo quanto ho dato a Roland. Forse ho dato solo sette e mezzo. Avrei dovuto dare di più a Roland. Otto e mezzo, ritratto la votazione di prima. Peso. Non è male, perché comunque non essendo troppo spesso ci sta come peso, quindi gli darei sette. Misure. Raga, dipende sempre. Misure io intendo come possibilità di mettergli roba sopra. Quindi magari se a uno interessa un metro per un metro, questo tappeto non andrebbe bene. Però per me misura è nove e mezzo, perché ci sta tutto, anche se abbiamo una batteria più grande. Anche adesso siamo due casse, secondo me ci starebbero tranquillamente. E portabilità sette, perché è appunto snì. Siamo lì. Non è comodissimo da portare, anche se ha il laccetto che ti permette di chiudere il tappeto e buttarlo in macchina e portarlo in giro. Come vi ho detto, io ne avevo uno un po' più piccolo di questo, anche quello aveva laccetto, era comodissimo. Mettevi il laccetto, buttavo in macchina e non si muoveva per niente. Poi in più ha anche la borsina, quella che gli metti attorno. Quindi portabilità sette, sette e mezzo, sette e mezzo. E adesso, ragazzi, rock bag. Guardate quanto è piccolo. E questo, in realtà, vi dico già che è stato il tappeto che ho scelto io in generale per i live. È un tappeto che ho da anni, ovviamente non questo, questo è nuovo, ma questo qua è un tappeto comodissimo. Adesso vi spiego perché. Non da aprire la scatola, però. Allora, come potete vedere, è già piegato, perché questo tappeto qua mi allontano un po', anche se non vi vedete la faccia, ma è diviso in due, si chiude così, come potete vedere questo è solamente un tappetino, e poi si apre, ha delle cerniere proprio, e si apre in questo modo. Quindi la figata di questo tappeto qua è che è pieghevole, cioè da portare in giro, ve lo dico già, questo qua è uno dei migliori tappeti che ci siano, assolutamente. Può essere un po' più bruttino degli altri? Assolutamente sì. Può essere meno robusto degli altri? No, assolutamente no. Questo no, perché è super robusto e vi faccio vedere una cosa dopo, perché vi faccio vedere poi il mio di tappeto dopo, così vedete che non vi dico delle bugie, ma andiamo a montare. Vedete, qui praticamente ha questa cerniera che è proprio come se fossero due tappeti separati, ma in realtà sono lo stesso tappeto, attaccati insieme e non si levano, tranquilli, non si levano queste due cose. E adesso abbiamo qui l'ultimo tappeto, che è un tappeto appunto, come vi ho detto, molto particolare. Ovviamente qua vedete che anche lui fa un po' di ondine, in realtà non tanto per la robustezza, perché appunto, come vi ho detto, questo tappeto lo conosco abbastanza bene, e però perché è nuovo, perché è tutto piegato nella maniera giusta. E quindi devo dire che questo è uno dei tappeti, secondo me, più comodi che ci siano. Carino da vedere, nel senso che anche questo qua è grigio, un po' marmorizzato, diciamo, quindi non si vedono troppo le schegge di bacchette che gli cadono sopra, dipende quanto gliene cadono, se gliene cadono sei chili e mezzo, ovviamente dopo un po' si vede, ma appunto ha questa comodità di poterlo chiudere, poterlo chiudere, poterlo chiudere, 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 fino a farlo diventare veramente piccolo, è molto leggero, e poi il fatto di non essere rettangolare, ma di avere una parte, un rettangolo, più un esagono, diciamo, quindi la parte davanti fatta esagono, che poi in realtà tanti poi lo mettono anche al contrario, quindi dipende, io l'ho sempre messo in questo modo, volendo si può anche aggirare al contrario, quindi lasciare la parte esagonale dalla seduta, che forse in generale potrebbe anche essere la cosa giusta, però io l'ho sempre messo così, quindi la lascerò così, è molto comodo, perché sono due metri per un 80, se non sbaglio comunque poi da questa camera vi metterò, come al solito, tutte le misure, e soprattutto sulle pedane, anche quando andate a suonare live, sulle pedane è comodissimo, quindi questo ragazzi è il tappeto per i live, ovviamente non si muove neanche se ci tiri le cannonate, questo ragazzi è il tappeto perfetto per i live, cioè è il tappeto perfetto per i live, facciamo le votazioni, come al solito prendo il mio foglietto, che non mi ricordo mai, aspetto il primo, sì, aspetto, allora aspetto ragazzi, 6 e mezzo, nel senso un po' di più della sufficienza, no, anche 7 dai, comunque a me piace questo tappeto, a me piace e molto più ad esempio del PIS, perché almeno 7 ci sta, perché è carino da vedere, dai, è carino da vedere, la robustezza, gli darei tranquillamente un 7 e mezzo, perché comunque è robusto, mi sembra addirittura più robusto del Minol, qui sotto, come potete vedere, ha questo, tra virgolette, antiscivolo, che è un po' particolare, è una griglia, sembra, che però fa anche da antiscivolo, e più che altro, quando lo portate in giro, lo potete appoggiare ovunque e non patisce, peso, raga, 9, cioè pesa pochissimo, avete visto prima quanto è grande e quanto pesa, cioè pesa veramente poco, portabilità 10, 10 è l'ode, proprio, non è però l'ultima portabilità, ah sì, è l'ultima, ma c'era ancora misure prima, misure, allora, misure, per quanto riguarda la grandezza, gli darei un 7, in realtà gli do un po' di più, gli do 7 e mezzo, perché ha le misure perfette, ad esempio per la maggior parte delle pedane della batteria, come vi dicevo prima, quindi voi andate lì, piazzate sulla pedana e la misura è perfettamente giusta, quindi non avete problemi, il tappeto ci sta giusto, non sborda fuori, non è troppo piccolo, e quindi poi rischiate così, no, è perfetto, e vabbè, portabilità, raga, 10, 10 è l'ode, come vi ho detto prima, è il tappeto più, è il tappeto migliore per i live, secondo me, che ci siano, che ci sia uno, che ci sia, quindi veramente un ottimo tappeto. Come promesso, ragazzi, questo è il mio tappeto, quello che ho usato live per una vita, si vede, perché ovviamente un po' di fatica la fa, però allora, volevo farvi vedere, perché questo tappeto, veramente ne ha viste di tutti i colori, avrà fatto circa, direi, sui 4-500 concerti, questo tappeto qua, e, ragazzi, allora, ovviamente, non è messo bene come quello nuovo, però, cioè, alla fine, raga, è sempre lui, eh, per quello vi dico che come durabilità, eccetera, fa spavento sto tappeto, veramente, veramente bello, poi, ovviamente, ad esempio, se guardate qua, un po' si è sfaldato, ma, ragazzi, stiamo parlando di 4-500 concerti, cioè, è veramente tanto, e in ogni posto, dalla terra, al cemento, alle piazze, a ovunque, quindi, veramente, ai locali, ovviamente, era solo per farvi capire che, dato che ho un'esperienza con questo tappeto, volevo, volevo farvi, farvi capire cosa ne pensassi davvero e come era ridotto il mio, quindi, non era ridotto così male, e, quindi, ragazzi, con questo, io finisco qua il video, se vi è piaciuto, mi raccomando, commentate qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, è un po' strano, perché ci ho messo un po' a pensare, faccio un video sui tappeti oppure no, perché non sapevo, poi ho detto, sì, lo faccio, monto, smonto la batteria, provo i tappeti, in realtà mi è piaciuto molto, mi sono divertito molto, e, soprattutto, ho visto la differenza reale che c'è tra i tappeti, perché, finché si pensa ai tappeti, si dice, boh, vabbè, sì, sono tappeti, quindi, come dicono tutti, vabbè, un tappeto vale l'altro. Quando li provi, soprattutto quando li provi uno vicino all'altro, e capisci i pro e i contro di ognuno, capisci la differenza. Roland, sicuramente, un tappeto robustissimo, il tappeto da studio migliore, direi, di oggi, il PIS, il tappeto migliore da battaglia, quindi il tappeto peggiore di tutti, di oggi, ma il migliore se abbiamo bisogno di un tappeto da buttare lì, anche se, sinceramente, al posto di comprarvi il PIS, io vi consiglierei di comprarvi il Rock Bag, l'ultimo che vi ho fatto vedere, perché costa poco di più, ma è completamente un altro tappeto. E, infine, il Minol è molto bello, è molto bello, quindi, dovessi scegliere io, per quanto riguarda lo studio, quindi, da lasciare fisso, eccetera, contanto che faccio anche video, eccetera, sceglierei sicuramente il Minol, perché è il più bello da vedere, è il più grande, e comunque sta fermo, sta bene, fa stare la batteria perfettamente ferma, quindi ottimo. Invece, live, appunto, il Rock Bag. Quindi, ragazzi, con questo, fatemi sapere qui sotto qual è il vostro tappeto preferito, fatemi sapere quale vorreste, o quale avete già, e basta. Io voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato tutti questi tappeti, e noi ci vediamo al prossimo video. Andate sul sito castriotrans.it a vedere i miei corsi, ve lo ricordo sempre, perché così almeno... Ciao! Grazie! 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 Grazie!